io ho primo ufficiale cobi pronto per l'avventura bucaniere prontissimo capitano eti speriamo che nell'isola ci sia il vulcano di cioccolata calda e le spiagge di zucchero guarda che i panetti di burro qui la situazione poteva diventare davvero scivolosa meno male che ci sei tu eddy eddy wow sci d'acqua cobi prendi il timone io devo guidare la nave non saprei eddy sei tu il capitano ma è facilissimo se sophie diceva a destra vai a destra se diceva a sinistra ci vai semplice ci vediamo ma eddy ti basta ascoltare le indicazioni di sophie la sinistra è vediamo da quella parte o quella è la destra perché non riesco mai a ricordarlo stiamo andando incontro ad altro burro e sembra appiccicoso sbrigati vira a sinistra quindi dovrei andare da questa parte no no ho detto vira a sinistra era quella la sinistra era quella la sinistra era quella la sinistra dovete ripetere tutto quello che dico non è vero ripetere quello che dico ripetere quello che dico ora smettetela basta oh no l'isola dei pancake è circondata da iceberg di burro dobbiamo allontanarci svolto cobi vira a destra oh mamma speriamo che funzioni